Perché sempre più imprese, altoatesine e in particolare pusteresi puntano ad espandersi oltre il vicino confine italiano, ad esempio in Austria? Con questa domanda si è aperta la tavola rotonda organizzata a San Candido e che ha visto la partecipazione di alcuni imprenditori altoatesini di spicco. Da Franz Senfter, presidente della Senfter Holding, ad Andrea Benincasa, dirigente della Monier. Da Robert Paulin, presidente della Elpo, a Christopher Zwanger, della Zwanger. Ed ancora Marcus Prugger, dirigente della Nordpan e il sindaco di San Candido, Werner Tschurzenthaler, titolare dell'omonima impresa edile. Nella sala di Casa Resch, con oltre 200 persone presenti, è stato evidenziato come nella vicina Austria vi siano condizioni più favorevoli per chi vuole fare imprenditoria. Il tutto grazie ad una burocrazia più snella, migliori condizioni per ciò che riguarda il sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche, un costo della manodopera mediamente più basso ed un regime fiscale più favorevole. Ragioni che, soprattutto in questi ultimi anni, hanno portato diversi imprenditori ad aprire attività oltre confine. Due gli esempi evidenti di come l'Austria sia riuscita nel tempo ad attirare l'imprenditori altoatesina. Negli anni 90, la ditta Euroclima di Brunico ha realizzato un efficientissimo stabilimento a Siljan, mentre dal 2000 la Loachera ha scelto Heinfels come sede del suo secondo stabilimento. La delocalizzazione, però, verso il vicino territorio austriaco non è l'unica scelta, come ha sottolineato l'imprenditore Franz Senfter. Se voglio commercializzare lo spec, come prodotto altoatesino, ha detto, devo produrlo in alto adice. Il sindaco Ciorcentaler si è invece rivolto ai molti giovani studenti presenti, invitandoli, sì, a fare esperienze lavorative all'estero, di produrre magari anche buone idee, ma di svilupparle poi sul territorio altoatesino. A chiudere la serie di interventi l'imprenditore Christoph Azwanger. L'Alto Adige ha detto è un buon territorio per fare impresa, per l'inclinazione al lavoro e al senso del dovere. In Austria ci sarà anche meno burocrazia, ma le nostre radici sono qui e qui sono fondate le nostre imprese.